il mondo dell'automobile sta vivendo una trasformazione epocale come mai prima d'ora dal motore elettrico quello ibrido scomodando perfino le qualità dell'idrogeno per non parlare dell'elettronica che sta rivoluzionando l'automobile con le sue infinite potenzialità il cambiamento riguarda anche il modo di acquistare una vettura dei recenti formule e contemplano per esempio anche il solo possesso o utilizzo perfino il mondo dell'usato è in piena rivoluzione quest'ultimo rappresenta una fetta notevole del mercato e i complici le nuove piattaforme web i contratti tra privato e privato stanno lasciando spazio a protocolli più professionali è un settore questo sul quale sta puntando molto il gruppo psa dopo i primi esperimenti in diversi paesi europei per i primi tra questi la francia il nuovo brand spotty car è stato lanciato anche in italia di cosa si tratta è molto semplice il gruppo psa mette a disposizione le proprie competenze e punti vendita per la commercializzazione di veicoli usati di qualunque marca il network spotty car riguarderà inizialmente tutta la rete di concessionari ed agenti peugeot citroen e open il vantaggio è di tutti l'acquirente avrà la possibilità di disporre di vetture verificate rigenerate professionalmente e con notevoli garanzie il gruppo psa a sua volta entrerà attivamente in un ampio business finora frammentato e spesso anche improvvisato l'usato è un mercato molto interessante spotty car si presenta con una combinazione di online e offline molto giusta quindi online abbiamo un sito dedicato dove tutto lo stock spotty car di tutta la rete psa sarà disponibile e quindi il consumatore potrà scegliere la macchina potrà anche vedere quella più vicina a lui ed eventualmente andarla a vedere a comprare si completa con invece una funzione offline perché ovviamente le nostre concessionarie diventeranno tutte o quasi tutte delle degli agenti spotty car dei dealer spotty car quindi la possibilità per il consumatore di andare anche a toccare l'automobile che trattarla e trattarla per comprare già I said it's too late to apologize.